ciao allora benvenuti nel video delle scoperte del mese aspettate che mi sto ricomponendo allora dunque prima scoperta che vi mostro è questo balsamo labbra della sien che si è il marchio ed è di beauty della lidl allora questo è milk e honey quindi miele e latte miele che io ho trovato per caso perché fino adesso io sapete che amo la versione classica del loro balsamo labbra e questo non l'avevo mai trovato allora prezzo 4,8 grammi sono segnato 089 ottimo prezzo e oltretutto ottimo anche l'inci quindi davvero un ottimo prodotto con un ottimo inci a un prezzo molto basso come si vede l'ho completamente finito esatto e è questo qui nel caso vi interessa ok allora è continuo da amare di più la versione classica lo ammetto però anche questo non è affatto male perché è comodo da applicare anche durante la giornata perché non lascia la scia bianca intorno alle labbra cosa importante non lascia un leggero effetto lucido ma leggerissimo non le appiccica che io amo e balsamo labbra che non appiccicano unica cosa volendo e che ha un potere idratante medio quindi con la stagione fredda ossure se le labbra sono molto screpolate si sente bisogno ad andarla applicare molto spesso però in c ottimo prezzo ottimo si può applicare anche più spesso o scegliere l'altra versione comunque sia questo per cambiare il solito classico che io amo e continuo a ricomprare penso che sia una valida alternativa andiamo avanti e altro prodotto che vi mostro è questa crema per il viso della bottega verde alla vena crema viso pelli delicati o sensibili col 97 per cento di ingredienti di origine naturale idratanti nutriente e lenitiva prima di tutto l'inci davvero si confermo è davvero molto valido quindi adatto davvero a chi ha la pelle sensibile o delicata poi il prezzo perché io avevo due campioni l'ho segnato 50 ml viene 24 euro e 99 ma ad esempio adesso in promozione a 9 euro e 99 ve la faccio vedere questa qui vedete che avevo due campioni comunque sia da la quantità so che l'ho usata per una più di una decina di giorni non so se trovo la quantità di questo campione ma ovviamente non c'è neanche scritto ok comunque sia vi ho detto che l'inci è buono e non ha un particolare profumo però la texture è ricca ma sorbe velocemente io l'ho applicata alla sera e trovavo che davvero fa la differenza soprattutto se la pelle un pochino screpolata o arrossata sento davvero la differenza alla mattina trovo la pelle molto più riparata rispetto a quando vado a letto però comunque non è un tam non è lucida quindi la pelle l'ha assorbita delicata fa il suo lavoro alla perfezione e questa mi è piaciuta assolutamente non ho niente da ridire a la usavo anche di giorno quando facevo le maschere quelle e purificanti magari per le dire un attimo dopo la pelle e si è sempre comportata benissimo non è proprio la crema adatta alle mie esigenze di pelle ma funzionato è assolutamente buon prodotto concludiamo con l'ultimo prodotto di questo periodo è sempre della nuova linea quella fiori di lotto e salvia questo è il bagno doccia allora la confezione che ho io è un 50 ml che ho finito il bagno doccia del libro che ovviamente però ho segnato il prezzo perché c'è di due dimensioni 200 ml 2 euro e 70 400 ml 3 euro e 95 però sono sempre punti verdi quindi non sono mai scontabili a meno che non ci siano delle promozioni con i cataloghi periodici allora la confezione è questo del prodotto allora vediamo il profumo in questo caso a differenza della crema questo anusandolo sa molto di salvia quindi può piacere oppure no diciamo che è delicato sta di salvia ma non persiste sulla pelle è un profumo secondo me da annusare perché è particolare ma può piacere soprattutto secondo me nella stagione primavera estate a una bella stiuma a un buon potere pulente si rimuove molto facilmente non secca la pelle non la irrita niente da ridire ed è sicuramente un prodotto che fa il suo lavoro e è particolare sinceramente una profumazione che io non apprezzo più di tanto interessante da provare ma che sicuramente non ricompro perché non è quello che piace a me però le preferisco di più ed è diversi non certo che sappia di salvia però è particolare e secondo me è da sentire e penso che secondo me visto il profumo un po' energizzante anche dopo la doccia potrebbe gustare dopo la palestra oppure per la salsa potrebbe gustare quindi vi consiglio comunque di annusarlo questo sicuramente allora queste erano tutte le scoperte del periodo vi ricordo come sempre di seguirmi anche su instagram perché lì pubblico le first impression quindi quelle recensioni brevi dove ad esempio ho un piccolo prodotto da provare e non posso testarlo per lungo tempo lo pubblico direttamente lì sopra se vi ho fatto scoprire qualche prodotto, se vi ho tenuto compagnia, se vi sono stata utile mi raccomando di mettermi un like, iscrivervi al canale e di cliccare anche sulla campanella così vi avvisate ogni volta che carico un nuovo video e alla prossima, ciao!